Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video Vediamo oggi la mia top 11 per la 37esima giornata al fantacalcio Se non conosci il format, oggi si va a fare una formazione di consigliati Schierati in un semplice 3-4-3 Questi consigliati sono presi tra certezze e scommesse Evitando i nomi banali, evitando gli scontatissimi top di reparto Quindi nella mia top 11 non ci sono top di reparto Prima di partire con il video ti ricordo di lasciare un bel like per supportare questo contenuto Ma non solo, i like, portafortuna per la tua squadra al fantacalcio Ti aiuta a vincere e un portafortuna gratis va sfruttato Quindi su con i like Se non sei iscritto iscriviti a questo canale perché stanno per arrivare tanti contenuti interessanti a tema fantacalcio Partiremo con il resoconto della stagione e poi ci sarà il Fanta Europeo Ho già partito il primo video a un mese di distanza dall'inizio dell'Europeo Come si gioca al Fanta Europeo? Lo trovi sul canale E altra cosa importante ragazzi In descrizione trovate il link per abbonarvi a questo canale Si parte da 1,99 euro Ci sono tanti vantaggi che vi invito a scoprire E vi faccio vedere anche una maglietta che mi hanno mandato gli amici di Calcio Zox Calcio Zox che cos'è innanzitutto? È un sito dove potete acquistare maglie da calcio a basso prezzo Circa 26 euro l'una Sono di alta qualità e ve le faccio vedere Ad esempio questa maglietta del Lecce di quest'anno di Patrick Dorgu Uno degli idoli di noi fantalenatori di quest'anno Un difensore che con Luca Gotti sta giocando sulla linea dei centrocampisti Sta facendo molto molto bene Come vedete ragazzi le maglie sono perfette Di ottima qualità Soprattutto se volete acquistarle su Calcio Zox Ricordate di utilizzare il codice sconto virus Per ottenere il 10% di sconto sul vostro carrello Detto questo ragazzi partiamo con la nostra top 11 Si parte per gradi, si va con ordine, si parte dalla porta Dove per questo turno vado a schierare il buon Montipo Un Montipo che per me è abbastanza affidabile per questa giornata Considerando il fatto che va a giocare contro la Salernitana Una squadra che in questo momento è già retrocessa Per cui possiamo aspettarci un buon rendimento da parte del Verona Per questa giornata Un Verona che è ancora ben motivato per la lotta salvezza Anzi se vince la gara contro la Salernitana già retrocessa Il Verona è salvo Quindi è un match point Quello del Verona è per vincere la prima cosa da fare Subire poco Montipo comunque nel suo piccolo E' affidabile ed è un nome che possiamo fare per la nostra porta Per questa 37esima giornata Difesa come primo nome ci metto Zortea Attenzione La partita del Frosinone non è facilissima Perché affronta il Monza E sappiamo che il Monza è una squadra dura a morire Però mi aspetto una gara ricca di gol Se avete visto il video di ieri Vi confermo questo mio sentore Questo mio pronostico Con un Frosinone che può anche vincerla Questa partita Di conseguenza Zortea Che sì E' difensore al fantacalcio Però gioca sull'esterno in centro campo Ha licenza di spingere Può portarci anche un bell'assist Secondo difensore Belanova Un profilo interessante Gioca contro il Milan Un Milan che ha finito il proprio campionato Un Milan che è qualificato in Champions League Un Milan che non ha obiettivi Un Milan che ha chiuso al secondo posto Che può permettersi magari un po' di turnover E qualche distrazione contro un Torino Che sì Potremmo dire che non ha nulla da chiedere a questo campionato Però Si trova la decima posizione in classifica E se le cose alle italiane girano bene Anche la nona può andare in Europa Il nono posto può valere la conferenza E quindi il Toro può essere ben motivato E Belanova è un giocatore In questo momento Nello scacchiere tattico di Juric Fondamentale Non si toglie dal campo Belanova Anche contro il Milan Come ultimo difensore Punto su Angelino della Roma Che nell'ultima partita L'ho visto abbastanza bene Mi sento di confermarlo Soprattutto Visto che Sì La partita è tosta contro il Genoa Però Sulle fasce Gli attacchi del Genoa Sono abbastanza carenti Quindi Difensivamente Pover Il compito Abbastanza facile Magari a livello offensivo Mettersi L'assist Mettersi Il suo piedino delicato Andiamo adesso Sulla linea dei centrocampisti Primo centrocampista Felipe Anderson Come detto nel video di ieri Niente paura Per i giocatori importanti Della Lazio Niente paura Perché la Lazio È una squadra in lotta Una squadra in lotta Per l'Europa Una squadra Che affronta un Inter Già campione d'Italia Un Inter Che può fare un po' di turnover Può permettersi qualche distrazione È una Lazio Che quindi può approfittarne Per me fiducia Felipe Anderson Che tra l'altro Vede nell'Inter Era una delle sue migliori vittime In campionato Secondo nome Da una sponda All'altra di Roma Si va su Brian Cristante Perché se abbiamo detto Che Pellegrini È un giocatore importante Se abbiamo detto Che Paredes Senza di Bale È rigorista Cristante È un giocatore Spesso sottovalutato Che però I suoi golettini Ce li fa Tre gol Li ha fatti Fin cui E chissà Che non possa chiudere a quattro Questo campionato Con un gol Alla trentasettesima giornata Contro il Genua È un centrocampista Non sottovalutare È una scommessa Ovviamente Non parliamo di un nome D'altissima fascia Però Non va sottovalutato Brian Cristante Attenzione quindi Terzo nome per il centrocampo Gianluca Gaetano Un Gaetano impegnato In un match Per la salvezza Se il Cagliari Vince contro il Sassuolo Si salva Quindi non può permettersi Errori questo Cagliari Gaetano È un giocatore fondamentale Nello scacchiere di Ranieri Che da quando è arrivato Si è preso il posto Con costanza E con certezza E ha fatto soprattutto Tanto tanto bene Per me è un nome da confermare Assolutamente Perché giocatori motivati Come Gaetano Vanno assolutamente schierati Ultimo Nome Politano Un po' il discorso Che abbiamo già fatto Ci torna Per il Torino Per la Lazio Le cose possono andare Abbastanza bene Per le italiane Se riescono a qualificarsi Addirittura In nove E in questo momento Il Napoli È proprio la squadra Non è in classifica Ha un match Contro la Fiorentina Che si trova Due punti sopra Con una partita In meno È una posizione In classifica Migliore Visto che si trova All'ottavo posto Questo match È fondamentale Per la squadra Partenopea Politano È un giocatore Che storicamente Quando vede la Viola Impazzisce Quando vede la Viola Fa sempre Molto Molto Bene Quindi è un giocatore Che è uno storico ottimo Un giocatore Che andrebbe schierato Ma soprattutto In questo Napoli Che fatica tanto I giocatori Che stanno facendo bene Sono solo quelli Del Tridente Di conseguenza Politano È un nome Da schierare Andiamo adesso Al Tridente All'attacco Primo nome Duvan Zapata Attenzione A questo Duvan Perché è un nome Scontato E non scontato Nel senso Che non è stato Benissimo Può recuperare E la mia idea è Non facciamoci Idee strane Perché contro il Milan Se Duvan gioca Può far bene Perché il Milan Non ha tante motivazioni È un giocatore Importante per Juric Non segna da un po' E deve sbloccarsi E può arrivare L'occasione giusta Contro il Milan Ovviamente Se riesce a recuperare Appieno dall'infortunio E poi Juric Deciderà Di farlo giocare Come secondo nome Ci metto Gianluca Scamacca Contro il Lecce Che qualcuno dirà Ma un consiglio scontatissimo Banalissimo Sì e no Nel senso Era squalificato In Coppa Italia Quindi non ha giocato Ci sarà mercoledì La finale di Europa League Quindi l'Atalanta È distratta Ma deve chiudere Anche il discorso Qualificazione Alla prossima Champions E lo può fare Con una vittoria Contro il Lecce Da Scamacca Mi aspetto Innanzitutto La titolarità Perché se mi aspetto Comunque Un'Atalanta Che faccia turnover Contro il Lecce Vista la partita Tra le due finali Con Scamacca Che ha riposato Nella prima finale Mi aspetto Un buon minutaggio Nella partita di Lecce Scamacca è un giocatore Che sta bene Che sta facendo tanto bene E che per me Va schierata al fantacalcio Ultimo nome Tami Ebram Non lo danno In questo momento Le nostre probabili formazioni Come titolare Per questa 37esima giornata Però È un giocatore Che Sta facendo bene Negli spezzoni In cui entra Perché Mi sembra in questo momento Anche chiara La volontà Della Roma Di puntare su di lui Per la prossima stagione Quindi Attenzione Ragazzi A Tami Ebram Perché Può essere Il nome Rivelazione Che in pochi anni Ma che potrebbe farci godere In questo finale Di campionato Detto questo ragazzi Grazie per aver guardato Questo video Mi raccomando Al like Se non l'avete fatto Lasciatelo tutti Iscrivetevi al canale E noi ci vediamo Con nuovi contenuti A tema Fantacalcio Su questo canale Molto molto presto Ciao a tutti